ragazzi ragazzi mamma mia eccoci qua nel secondo episodio di granny ora ho le cuffie quindi si sentirà spero per voi altrimenti io il video lo pubblico lo stesso allora spostiamoci un attimo andiamo su play andiamo su continue tutto easy tutto liscio noi bobo tranquilli noi siamo sta lo addando si mettono a fare le cose proprio quando registro allora eh raga qua è difficile giocare perché ho tutte e due i cavi del carica batterie e delle cuffie quindi quando poggio una mano non devo ed è difficile è già qua via via di bagno proprio velocemente via col bagno cioè io sto cliccando con una difficoltà incredibile mo lo so io che mo arriva la nonna no arriva con 30 pistole 40 che la snikov arriva pupumma e siamo crepati lì no non voglio giocare e vattene a quel paese bello la sento la sento arrivare sto schifo di persona eccola là ma ti pensi che non arriva? ma è ovvio che arriva guarda là va che schifo che schifo occhio alla macchina ora come ride tutta tutta schifosa la devi vedere come ride in modo schifoso su lavora con chi adesso andiamo là ragazzi ho il segno alle mani devo giocare così cioè ho tutto non so come toccarli i tasti di altro così solo che va ogni tanto la mano va a rompere il cable e la videocamera il modo più scomodo di giocare nella mia vita che palle che palle migliorerò migliorerò nonna vattene un po' ad un paesino chiamato fa vava perché io perché io c'ho il passaggio bello di qua e si nonna e t'ho fattuto ponzi ponzi po 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 vediamo un po' ok rialziamoci rimettiamo la rimettiamo la nostra cam qui sapete che c'è ingrandiamola un po' corri ok vai sotto le scale arriva la nonna pam e ti frega anche stavolta ti frega anche stavolta e muore così è fatto il gioco va bene va bene mi sta venendo un cancro alla mano giocare così però va bene ecco l'ha messo la trappolina e a me che metti la trappola non me ne frega nulla adesso non me ne frega però scappa che mo' arriva quella scappa 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 no la sento ridere la sento ridere qua non voglio morire sono giovane adesso arrivo bam ma un colpo nel cuore o in cu dipende dipende alla nonna dove piace avere la la suppostina nonna 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 buonanotte ma la posso spingere da quale va bene grazie a tutti